Per cui, avendo lei come mostro in casa, io potevo sembrare la donna più sexy del mondo. No, 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 ancora altro, ancora altro. La Bodizio era veramente un mostro. Quando abbiamo cercato, lo devo dire, è una puntata, ma insomma, per la verità, quando abbiamo cercato, come si chiama l'ex aiuto di Ferrini? Maurizio Main. Maurizio Main. Ho detto, Maurizio, guarda ci vorrebbe una un po' bruttina. E lui ha detto, me ne faccio vedere una che è un cesso.